Spero, 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 questo intendo io, ok? Non ti permetterò di perdere così, in questa situazione in cui sono oggi brutta come un mostro, ti uccido, mi trasformo in mamè e vi divorevo tutti. Mamè non uccide nessuno. Ma c'è un segreto che tutti hanno nell'anima. Mamè non uccide nessuno, non li può neanche nascondere, li può solo accogliere. Mamè non uccide nessuno, non li può neanche nascondere, li può neanche nascondere. Mamè non uccide nessuno.